ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco rino steel plus a cosa serve rino steel plus a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi nasofaringei altri è commercializzato in italia dall'azienda laboratorio chimico deka srl informazioni commerciali titolare laboratorio chimico deka srl concessionario laboratorio chimico deka srl categoria di appartenenza dispositivi nasofaringei altri confezioni rino steel plus spray nasale da 14 ml indicazioni rino steel plus a uno spray nasale a base di acido ialuronico rino steel plus grazie alla sua azione meccanica di protezione favorisce l'idratazione e la riduzione della congestione della mucosa nasale ed è utile nelle seguenti condizioni riniti o rinosinusite rinite allergica e barra o non allergica rinite atrofica adenoiditi riniti crostose stati di irritazione della mucosa nasale derivanti da agenti inquinanti smog fumo polveri a seguito di interventi chirurgici sulle fosse nasali per ridurre la formazione di croste e favorire i fisiologici processi riparativi migliorando il decorso post operatorio modalità d'uso bambini una due erogazioni per narice fino a due volte al giorno adulti una due erogazioni per narice fino a quattro volte al giorno avvertenze non utilizzare il prodotto se per sensibili o allergici ad uno dei componenti rivolgersi ad un medico qualora vi fosse ipersensibilità nei confronti dei componenti si raccomanda un uso strettamente personale del prodotto non ingerire evitare il contatto con gli occhi non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro tenere fuori dalla portata dei bambini non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza indicata sulla confezione il fabbricante attribuisce al prodotto una validità pari a 36 mesi conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore e luce solare diretta il periodo di validità si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato componenti e ingredienti acqua depurata sodio ialuronato alto pm sodio cloruro sodio benzoato argento vitellinato acido fosforico ed abisodico fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato